Quando si amministra una città l'obiettivo è ovviamente coinvolgere la cittadinanza perché il sindaco è il massimo rappresentante della collettività che amministra e quindi deve diventare l'amplificatore di quelle che sono e il realizzatore di quelle che sono le istanze della base. Quindi un coinvolgimento della base nei vari provvedimenti, nei vari atti che si pongono in essere. Allora sindaco in questi anni, ormai ci avviamo alla conclusione di questo quinquennio, quali sono stati quegli atti amministrativi che poi si traducono ovviamente in opere, infatti come dire tangibili, che hanno visto davvero il coinvolgimento, la partecipazione della gente. Io ricordo così alcune piazze che sono state intitolate e che hanno appunto una valenza, un significato di socialità. Sì Luigi, io ritengo essenziale il fatto che il lavoro di un'amministrazione si compenetri con la partecipazione prima che con le esigenze di una comunità. Ogni attività amministrativa può essere partecipata, dipende dal livello che si voglia dare a questa partecipazione. Noi abbiamo fatto tantissime scelte, tantissime azioni in questi anni che hanno dimostrato la necessità di parlare con la gente, di confrontarsi con la gente, utilizzando tutti gli strumenti, dalla stanza che diventa luogo di accoglienza dei cittadini, ai social, alla piazza reale, l'incontro per le strade. Abbiamo voluto per esempio intitolare delle piazze ad alcuni nostri concittadini meritevoli di essere ricordati nella storia di Palagiano. Ricordo per esempio Piazzetta Taranto che diventa Piazzetta Don Peppino Maraglino, anche se il compianto Don Peppino non era cittadino palagianese ma massafrese, ma ha operato su Palagiano una vita intera. Per cui non potevamo non riservargli uno spazio nella memoria storica della nostra città. E da dove viene fuori questa scelta? Dalla richiesta, dalla volontà, dal desiderio, dalla necessità espressa da alcuni concittadini che vivono prevalentemente quella zona o che hanno vissuto l'esperienza pastorale nella parrocchia San Nicola. Ad esempio la dedica l'intitolazione della piazzetta nuova costruita a Bachelet per un tenente di aviazione, Masella, che nessuno conosce e che certamente nessuno ricorda, ma che oggi diventa un nome, una storia, un volto da ricordare perché appunto quella piazza sarà, diventerà, o già diventata perché c'è delibera di giunta, diventa piazzetta Masella. Ora, questo a cosa può servire? Può servire certamente a ricollegare, a riconnettere il tessuto sociale al tessuto territoriale. Cioè poter dire vivo una piazzetta che ha quel nome, significa vivo innanzitutto una piazza nuova, un luogo di aggregazione sociale nuovo, bello, curato, mentre prima era assolutamente nel degrado più totale, basti pensare a piazzetta Pio XII, cos'era prima e cos'è oggi, basti pensare a piazzetta salvo d'acquisto, cos'era prima e cos'è oggi, ma poi serve anche a poter raccontare una storia, da qui l'idea delle piazzette narranti, quindi una sorta di passeggiata per il paese a ricordare nomi, luoghi, volti, storie, racconti di chi ci ha preceduto. Ecco, Sindaco, in questa azione di partecipazione, mi permetto di dire, di cogestione del territorio, ovviamente nell'ambito delle competenze di ciascuno, è stato molto importante il coinvolgimento delle associazioni. Il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo che dialoga con le istituzioni. Palagiano vanta una rete associativa straordinaria, noi stessi veniamo da quel mondo, abbiamo agito nel mondo dell'associazionismo per anni e continua ad essere così, è chiaro che cambiano i punti di vista perché oggi, diciamo, in qualità di sindaco, come rappresentante di un'amministrazione ci interfacciamo con le associazioni provando a dialogare, partendo evidentemente da presupposti diversi, ma ad esempio l'esperienza della consulta, che ha lavorato con assoluta autonomia, come spesso peraltro mi è stato chiesto da parte della stessa consulta, oggi si rinnova ancora con nuove cariche istituzionali, direttive, che rappresentano ancora di più una sorta di collaborazione, di intesa tra il mondo associativo e il mondo amministrativo. Io dico sempre, gli amministratori passano, le scelte e i cittadini restano. Se i cittadini sono riuniti in reti associative saranno ancora più forti, avranno ancora una voce più determinante perché, ripeto, il percorso è un percorso di condivisione per quanto sia il tempo di durata di un'amministrazione, poi le cose si iniziano, si costruiscono, si completano nel tempo e quindi è fondamentale continuare ad avere questo dialogo con le reti associative, indipendentemente dalle loro posizioni, anche dalle loro ideologie, perché fa parte di ogni essere umano avere evidentemente dei convincimenti anche politici.